Solo a Firenze può succedere una cosa di genere Penso solo a Firenze Impossibile di succedere alle altre parti Qualunque squadra anche in Manchester City sarebbe contento Ma a Firenze Succede C'è parecchia gente Perché ho visto c'è parecchia gente Che è scontenta E Diciamo delusa Dice no vabbè Per questo acquisto Ragazzi Ma tutto a posto Tutto ok a casa tutto a posto No perché Boh vabbè Poi contestualizziamo va benissimo Però io godo Godo Di base Di base Prendiamo la base Di base godo Di base godo Perché le due anni siamo dietro a questo ragazzo Le due anni Due anni Quattro sessioni di mercato Due anni siamo dietro a questo ragazzo Finalmente Finalmente Guarda i capelli Fa un caldo Si schianta C'è un umido Si muore Godo 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 Puttana Eva Godo Non potete non essere contenti Non potete non essere contenti Manca solo la firma Mancano le visite mediche Però Cioè È una cosa che è fatta Non potete non essere contenti Cioè è impossibile È impossibile Che poi Contestualizziamo Non sia Non sia Non fosse Mettiamolo così Non fosse un acquisto necessario Sono d'accordo Perché i terzini erano l'ultima cosa da toccare Erano l'ultima cosa da toccare Il reparto dei terzini Si era quello che si era messi meglio Ma adesso Con Il fatto che forse Biraghi rinnoverà Fino al 2026 Perché lui c'ha un contratto Fino al 2025 Adesso gli hanno Offerto Un anno in più Per praticamente Finire la carriera a Firenze O quasi E idem anche Ranieri Ma lui insomma Stanno Tutte e due Però in questo caso Biraghi Se rimanessero entrambi Giustamente Per chi è in forse Io personalmente Penserei che comunque Continuerebbe A giocare Biraghi Titolare E poi Parisi Ragazzi Parisi Parisi Il futuro Oh ma il futuro Della nazionale Il futuro Cioè lo voleva Mezza Italia Cioè Non si può non essere contenti Di questo acquisto 10 milioni Più uno di bonus Quindi Ottima operazione Di base Ottima operazione Ottimissima Io sono contentissimo Contentissimo Poi Sono d'accordo con voi Che deve arrivare Il portiere Deve arrivare In mediana Il posto di Ambrobat Che anche lì Sembra appunto Beautiful E poi Una punta Centro avanti Magari più forte Ora si parla di Fultrughe Poi magari Se ne parlerà meglio In un video Che vi farò Sempre dedicato A tutto il calcio Mercato Perché adesso Si parla di Parisi Ragazzi Parisi Classe 2000 Classe 2000 Lo voleva la Lazio Lo voleva l'Inter Lo voleva la Juve La Juve ci hanno provato A sfumare Capite Stiamo zitti Fino a che non si firma Perché insomma Anche Berbato Doveva arrivare Ma poi Guarda l'aereo Che versi Che fa la Chihanna De La Rouge E si ferma A Torino Quindi Per dire Però Sembra una cosa Appunto Già fatta Quindi io ragazzi Sono contentissimo Sono contentissimo Io sono contentissimo È uno di quegli acquisti Che ti fa capire Che comunque Rispetto a 3-4 anni fa Il salto di qualità L'hai fatto L'hai fatto Sei tornato O perlomeno Stai tornando Mettiamola così Dove la squadra Merita di essere Dove la Fiorentina Merita di essere Parise È un acquisto Soffiato Alle big della serie A Perché Perché sì Perché te Sei una big della serie A Devi ritornare lì Ed è giusto Che te tu faccia Anche questi acquisti qui Andando magari A sostituire Il tuo capitano Sì Ma comunque Il tuo capitano Comincia a avere una scerta E te devi andare A sostituire Con un giocatore Che in prospettiva futura Ti può dare Altri 10 anni A Firenze Poi Magari domani L'anno prossimo Vale 30-40 milioni E arriva La Juve Lo United E sta minchia Sto cazzo Va bene Perché giustamente Noi non siamo Ancora una big europea Però Comunque in questo momento Hai fatto un upgrade Non puoi essere scontento Terzic Se ne andrà A Bologna Ho visto Insomma da qualche parte Perché probabilmente La Fiorentina Non ci ha creduto Più di tanto Non ha Non diciamo Non vuole investire Su di lui Ancora Un'altra stagione E quindi è giusto Fare questo cambiamento Sulla sinistra ragazzi Ce sa una fascia Difesa Paurosa Paurosa Ditemi Nei commenti Un primo E secondo terzino Sinistro Forti come quelli Della Fiorentina Biraghi Parisi In serie A No Non dico In serie A In serie A L'Inter c'è a Di Marco Ma poi Il Milan c'è a Ternandez Ma poi Cioè per dire C'è insieme Ma poi considerando Anche dall'altra parte Dalla davanti Ci sa anche Dodò Ragazzi Sono contento Sono contento E euforico Sono euforico Puttana Eva Puttana Eva Sono euforico Spero appunto Che davvero Questa notizia Di Biraghi Che vuole rinnovare Sia vera E che Lui appunto Firmi per rimanere Fino ai 2026 Proprio per comunque Anche tra virgolette Fare da chioccia A questo ragazzino Appena arrivato Che comunque Ci avrà bisogno Del suo tempo Di ambientamento Lo sappiamo Con italiano Funziona così Ragazzi Anche se arriva appunto Gesù Cristo Gesù Cristo C'ha bisogno Di ambientarsi Perché il gioco D'italiano Vuole un certo ritmo Vuole certe cose Non vuole altre cose Quindi Lo sappiamo ormai Italiano appunto Rimane E quindi Il gioco rimane quello Ma io sono contento Ragazzi Sono contento Non ha dei numeri Incredibili Ma è un terzino Alla dodò E quindi è quello Che serve a italiano Alla fine Andando a sostituire Magari in certe partite Biraghi Bisognerà un pochino Ridisegnare Diciamo Le tattiche di gioco Perché i piedi Non sono gli stessi I movimenti Non sono gli stessi A livello offensivo Ma anche difensivo Non sono la stessa persona Quindi A parte quello Io sono sicuro Che sarà un ragazzo Che non ci deluderà O perlomeno Non penso Perché Per quello che si è visto Fino ad ora In questi ultimi tre anni All'Empoli Ragazzi Via forza Su Dai 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 Bisogna essere contenti Di questo acquisto Poi Devono arrivare Quelli essenziali Perché questo Non è un acquisto Essenziale Va benissimo Però Io Sono contentissimo Sono contentissimo Mi va benissimo Poi Appunto Adesso Aspettiamo Quelli che davvero Ci servono Quindi Il portiere Il mediano E la punta E poi Anche tutti gli altri Nel caso si trova Qualche occasione Qui Si è sfruttato Un'occasione Un'occasione Di mercato Che Non ti ricapitava Perché poi magari Te l'avrebbero rubato Sotto il naso E a quelle cifre Un giocatore del genere In serie A Soprattutto Non lo ritrovi Quindi ragazzi Fatemi sapere La vostra Sotto nei commenti Godo Godo Si gode Perché anche voi Dovete godere Dovete godere Di questo acquisto Dovete godere Di questo acquisto Aspettando la firma E le visite mediche Sempre Forza Viola Andiamo Forza E uno E uno In più Dai Ciao ragazzi